Quindi ho da poco compiuto 65 anni. Ebbi la fortuna di avere un insegnante elementare speciale che ci leggeva libri. L'insegnante si chiamava Caspar Repoggio e non solo ci faceva leggere libri, ma anche ci faceva fare delle cose, anche segnale di quello che fu il 68. Voi immaginate una quarta elementare, una quinta che operava attraverso un lavoro di gruppo che doveva decifrare quanto misurava un sedile alla vita personale. Quando misurava un sedile ci faceva vedere tutte le piccole fabbrichette locali per spiegarci come sopravvivevano, la lavorazione dell'argilla, la lavorazione del gensomino che c'era nella strada di Olimopo. Comunque l'importanza dei libri a lui, lui ci teneva. E in qualche modo, ecco, io incontrai i libri. Poi successivamente, la bellezza di avere anche insegnanti straordinari che non sempre sono presenti nella scuola, c'è stata un insegnante, ad esempio la moglie del professore Ciancio alla seconda e terza media, che fu speciale, come fu speciale, alla professoressa del bienio del liceo scientifico di Siracusa, una certa Giuliano, di Rosolini, che anche a lei piacevano i libri e piacevano anche a me. E contemporaneamente in quegli anni mi capitò di frequentare una biblioteca allora aperta, annessa alla scuola media bianca, gestita da Rosario Candido, il papà di Paoletto Candido, il professore. E questa apriva la sera, dalle 6 alle 8, all'incirca, e io frequentavo questa biblioteca antesegnale di quella che poi è stata la biblioteca per davvero, la biblioteca comunale di Agola, e lì i libri non venivano prestati, si potevano leggere solamente lì, si entrava alla scuola media attuale bianca, sulla sinistra era la seconda o la terza classe adibita a questa funzione di far leggere chi volesse lì stesso. E a fine di ogni anno, come se fosse stato un vero e proprio anno scolastico, questo incaricato che lavorava al Propedidorato con questa funzione, Rosario Candido si chiamava, di far leggere i ragazzi, alla fine ci regalava dei libri, fra cui ricordo il Leonardo, che era una sorta di calendario atlante di Agostini, dove c'era di tutta informazione su com'era lo Stato italiano, su quali fossero il governo, le distanze chilometriche fra una città e l'altra, i treni, gli orari dei treni, i posti, le spedizioni costali, voi immaginate che sotto ogni punto di vista, con un volume di quel tipo, si risolverono i problemi ordinarie di ogni famiglia, consultando solamente questo Leonardo che usciva ogni anno aggiornato in tutte le questioni che meritavano essere aggiornate. E in quel periodo mi capitò di partecipare a una specie di attivismo sportivo che era dell'Unione Italiana Sport Popolare, l'UISP. L'UISP esisteva solo ad Avola relativamente a tutto il resto del Meridione, no? Aveva questa sede ad Avola perché i fratelli Dagada ne avevano creato, Gaetano Dagada, il Libero, una struttura, e si faceva la giornata olimpica. E lì io conobbi una valigetta che era dell'organizzazione, che conteneva dei libri. L'importanza dei libri nel WISP, questa è una cosa importante, che poi ho utilizzato anche sotto il punto di vista sportivo, perché mi occupavo con successo di lanci, lancio del peso, del disco, del martello, del giavellotto, e c'erano le pubblicazioni che spiegavano l'arte migliore per avere successo nello sport. E io fui anche campione provinciale di lancio del peso, per esempio. Tramite i libri cominciai a capire che si potevano trovare le risposte su qualsiasi argomento. E cominciò in questo modo, naturalmente questa cosa, i libri, ecco c'era una volta il libro, potremmo dire, no? Mi capitò, ingegnante, di incontrare Corrado Barone, Corrado Barone era un altro fissato con i libri, e voi immaginate che all'età di 17 anni entrai a casa sua e lo trovai, seduto a un tavolo con la madre, il padre senza un braccio, che era stato mutilato nella Seconda Guerra Mondiale. E il nonno di Corrado Barone, che invece apparteneva alla Prima Guerra Mondiale, tutto urfo, che ascoltavano, Corrado che leggeva letture improponibili, secondo me, per quei lettori che lo ascoltavano, e che erano Mussille, La Montagna Incantata, Thomas Mann, Joyce, Ulisse di Joyce, e Corrado leggeva questo tipo di letture, e tutti quanti erano incantati probabilmente dall'eco delle parole o dall'atmosfera che Corrado che usciva ai pulcari al mondo per la Prima Guerra Mondiale e al papà della Seconda Guerra Mondiale, no? Corrado Barone era attaccadissimo ai libri. Io non ebbe tanti libri a scuola, era l'epoca che la nostra generazione ha avuto la fortuna, nel dopoguerra, assieme a poche altre successive, di acquistire cultura e raggiungere titoli di studio che le precedenti generazioni non avevano mai avuto. Se voi pensate che a Davola ci sono state, se la Davola è ovunque, ci sono state intere generazioni che hanno soffrito di questo approccio che è stata la novità del 1900, del 900 diciamo. Se pensate che all'inizio del 1900 c'era all'incirca in ogni realtà locale il 90% della popolazione non sapeva leggere e scrivere. Eppure prestavano molta più attenzione alla scrittura degli altri, quelli che riuscirono a poter farlo. Non è vero che a volte ricorderete che allora bastava dire io ho avuto la quinta e era come dire il titolo romano. Si diceva di mio nonno, per esempio, Michele Urso, che si chiamava come mio fratello, che sapesse a memoria la Divina Commedia. Ora, questa cosa di sapere a memoria o di imparare a memoria, noi abbiamo Nenomuccio, per esempio, che è un cultore di questa cosa, come anche altri amici mi dicono sai cosa sto facendo? Sto passando il tempo tutte le sere come un amico che la Seragusa si chiama Spataro. Sto imparando ogni sera versi della Divina Commedia. deve essere stata una fissazione che ha attraversato le varie generazioni quella di imparare a memoria la Divina Commedia. E i nostri coetanei impararono negli anni 50, 60, 70 impararono cose che le precedenti generazioni non avevano mai imparato. E questo ci fu, questo boom diciamo si è completato all'inizio degli anni 80 soprattutto. ma nel 68 è stato il grande successo di questa operazione e nel 68 accadono tanti mutamenti fra cui anche la grande circolazione di libri dovuta a questa esigenza di volere, di sapere sempre di più. in quel periodo i fatti di avola ci furono i fatti di avola il coinvolgimento da parte mia e da parte di chiunque di qualsiasi orientamento politico a interessarsi quindi in qualche modo a coinvolgersi con l'impegno l'impegno mi portò alla politica in un primo tempo io che venivo da idee anarchiche lo confesso e l'incontro con la sinistra tradizionale quella che era rappresentata dal partito comunista mi portò ad un certo punto ad esempio ad assumere il ruolo di primo piano a seguito dei fatti di avola del coinvolgimento che io ne evi e fui chiamato ad assumere un ruolo di diligenza a livello provinciale ed evi la fortuna e dico fortuna di frequentare tra i pochi di quel periodo un corso di formazione quadri dell'istituto di studi comunisti di Pertocchi fu in quella circostanza che io conotti Umberto Terracini per esempio Emanuele Bacaluso Terracini era uno dei padri della Costituzione diciamo che vi dico che quel corso lo contempo con ciascuno di noi partecipò esprimendo delle poesie che poi vennero vennero poi pubblicate in cipostile com'era allora il tempo e a seguito di questa esperienza di diligenza diciamo nella federazione giovanile comunista che si era russa io partecipai al tredicesimo compresso del PC che fu a Milano e in quel congresso passò la mano da Luigi Lotto a Berlinguer come delegati di congresso ci chiedono una borsa in pelle piena di libri anche questa circostanza di questo messaggio che camminava sempre nelle camere dei libri che per me che avevo avuto fame di libri e carenza di libri rappresentò un'altra volta una specie di chiamata e cominciai a cominciai a capire che con i libri potevo avere quell'autonomia che col PC non è più perché lo scontro diciamo con vecchie logiche di potere presente anche all'epoca all'interno della sinistra un partito che soffriva un mancato adeguamento noi stessi eravamo tormentati noi giovani di allora Franco Monello che è qui con noi ad esempio ricorderà come noi cercavamo una via cercavamo fra noi una via una via ideologica più ideale rispetto a quella del partito tradizionale che poi non trovavamo chiaramente non la trovavamo perché non la potevamo trovare nel corpuscolo di allora che poi finivano tutti all'aria diciamo e allora allora incontrammo tutte le rappresentanze quasi tutte autonomia operaia servire il popolo potere operaio e mi ricordo ci incontravamo a casa di Franco nel corso qui Vittorio Monello come si chiama il corso principale di allora ci incontravamo proprio alla ricerca di ci dovessero prendere per sovversivi si ci dovessero allora per sovversivi anche questo dire esprimere anche questo tipo di etichetta che potrebbero darci ora e che ci diedero anche allora all'interno dello stesso PC perché noi allora eravamo ora l'etichettatura e soffrire di etichettatura è stato un problema per chi ha vissuto in forma libertaria l'etichettatura negativa tra l'altro o per cercare di capire con chi avevano a che fare all'interno del PC si chiamavano maoisti fuori nei corpuscoli io mi ricordo quando incontrai Adorno Adorno mi disse non so che cos'era io del PC non so cosa rappresentavo per lui era la forma più negativa della sinistra Mario Adorno cosa si chiama Mario si chiama poi questo tipo di e poi i 14 non mi dico cosa ci interessano i quelli di destra eccetera eccetera ma questo fu comunque man mano lo scontro con il PC mi portò a capire che era possibile una via autonoma per la dignità allora già a 20 anni 22 anni si riteneva maturi per non più sottostare non è come adesso che a 40 anni 50 anni i ragazzi sono a carico delle famiglie allora diciamo non c'erano grandi risorse e quindi bisognava darsi da fare autonomamente per trovarsi un destino e mi ricordo che mi dimissi il segretario provinciale di quella federazione giovannica comunista che mi si a lavorare con un'agenzia di libri collegata al PC che si chiamava la Dias che distribuiva editore più uniti la terza Bollighieri detonato una grandissima casa di licio detonato che fece il primo libro sui fatti di Avola si intitolava l'ordine manipolato la Bollighieri aveva i libri scientifici più speciali che ci potessero essere in quel momento faceva concorrenza solo un'arco umana che c'era all'interno degli editori più uniti che era prodotta dall'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica immaginate a proposito di questo non